ascoltate questo messaggio perché ho voglia di fidanzarmi ma appena inizio a frequentare qualcuno mi manca l'essere single è una ragazza che me lo manda ci tengo a sottolinearlo perché aiuto ci tengo a sottolinearlo perché magari si potrebbe pensare un messaggio maschile invece no, è una ragazza che me lo manda e secondo me è bellissimo che me lo mandi una ragazza allora dato che io non ho la risposta a questa domanda vi suggerisco di fare un esperimento provate a chiudere gli occhi ovviamente se siete alla guida non chiudete gli occhi vi prego chiudetene uno tipo fate l'esercizio come età cervello come gli albatrossi in volo sto scherzando non chiudete neanche un occhio lo farete in un altro momento ok ascoltate soltanto il video e poi fate l'esperimento l'esperimento consiste in questo immaginate di cancellare tutte le regole tutti i costrutti sociali quindi cancellate l'idea di famiglia mamma mia qualcuno già va in angoscia ok tranquilli è soltanto un esperimento stiamo giocando con la nostra mente cancellate l'idea di famiglia cancellate l'idea di fidanzato o fidanzata cancellate l'idea di figlio ma non nel senso di cancellare il figlio che qualche genitore qualche volta vorrebbe farlo ne sono sicuro no il concetto ok cancellate tutti i costrutti sociali e tutte le regole ok fatto tipo mucciaccia fatto benissimo ora che siete in angoscia totale vediamo cosa si può fare beh se eliminate tutte quante le regole questo chi ha fatto le regole dell'attrazione lo sa molto bene perché ne parlo durante il corso rimangono soltanto le cose più importanti e cioè i valori che cosa sono i valori i valori sono le cose più importanti per noi l'amore la condivisione il senso di appartenenza la felicità stessa e ovviamente mi rendo conto che questa cosa possa spaisare tanti però se fate veramente bene questo esercizio ma veramente veramente bene senza pregiudizi quello che probabilmente sentite è come un senso di liberazione è come veramente avere la possibilità di perseguire quello che è importante per noi senza dover seguire delle regole scritte non da noi ma da qualcun altro e non voglio dire attenzione che il concetto di fidanzamento o famiglia siano dei concetti sbagliati voglio dire che se in una determinata situazione non vi trovate bene probabilmente la cosa sbagliata per voi non siete voi ma è la situazione stessa alla prossima Grazie.